L'assessore Paolo Strescino che sta compilando una lettera nella quale comunica le sue dimissioni dall'assessore in data odierla, che credo siano irrevocabili, a meno quello che mi è parso di capire. Ma adesso dico due cose, perché molto si è detto, molto si è scritto, capisco che giornale, giornale. Grazie.